Se non si pagano le ammende, si rischia di vedere sfumato un viaggio di piacere o di lavoro all'estero. La legge infatti prevede che non possano ottenere rinnovo al rilascio del documento coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale, ma anche pagare una multa. E così la Questura di Piacenza ha fatto recuperare allo Stato 106 mila euro in tre anni. I dati arrivano dall'Ufficio della Polizia Amministrativa e Sociale, che tra il 2015 e il 2017 ha rilasciato ben oltre 20 mila passaporti e 2.500 lascia passare per i minori. Una mole di lavoro ingente e destinata a crescere. Nel 2015 di passaporti ne sono stati rilasciati oltre 6.000, nel 2016 quasi 6.500 e quest'anno oltre 7.000. Ma non è tutto, l'Ufficio fornisce sostegno documentale a connazionali che abbiano smarrito o danneggiato il proprio passaporto mentre si trovano all'estero, mettendosi direttamente in contatto anche con le ambasciate. L'Ufficio però non è un'agenzia di viaggi, ci tiene a sottolineare Maurizio Mobilio, dirigente della PAS. Ci sono regole precise da seguire. Innanzitutto occorre la prenotazione online. Inoltre l'interessato è tenuto a controllare di essere in regola. Se poi c'è una sentenza di condanna con una pena pecuniaria non pagata, la Questura non rilascia il documento. In questo modo nel 2015 sono stati recuperati 13.350 euro, nel 2016 oltre 31.000 euro e nel 2017 oltre 60.000 euro. Capita anche di trattare casi in cui persone, in prevalenza donne, chiedano, come previsto dalla legge, la revoca del passaporto dell'altro compagno o ex compagno in presenza di figli minori. La PAS però non si occupa solo di passaporti, ha spiegato il capo di gabinetto Filippo Sordi Arcelli Fontana, ma anche di altri due importanti settori, armi e licenze. Per quanto riguarda le armi, sono state rilasciate soltanto quest'anno oltre 1.000 licenze, di cui 500 per la caccia e il restante per tiro al volo. Le richieste sono dimezzate in tre anni. La Questura rilascia poi le licenze per alcune tipologie di attività commerciali, gelerie, comprooro, armerie, sale scommesse, videolotteri. Nel 2017 sono state presentate 230 istanze, di cui 219 accolte e 7 rifiutate. Oltre al rilascio dei passaporti, la Polizia Amministrativa e Sociale si occupa anche di rilascio licenze per le armi, ma anche licenze per esercizi, come ad esempio i compraoro, per gioiellerie. Quindi è un'attività, oltre a quella che poi è il contenzioso che potrebbe derivare da questo, è un'attività sicuramente complessa, che riguarda a 360 gradi la vita anche del cittadino.